Edoardo, due game persi negli ultimi dieci minuti, oggi contro Ahmed, contro Ahmed, why? Abbiamo dato il massimo sinceramente, però ci mancava un po' di comunicazione tra di noi, abbiamo sbagliato come squadra, abbiamo sbagliato come squadra perché abbiamo litigato troppo in campo. E perché avete litigato? Per quale motivo avete litigato? Non vi conoscete? Ci dobbiamo conoscere meglio sia tra giocatori, sia dentro il campo, sia fuori dal campo. Ok, ok, and you lose with Ahmed, ok. Speriamo di vincere le prossime, speriamo di vincere le prossime e dare il massimo. Good luck, good luck. Grazie, grazie.